Sulle vette vulcaniche che caratterizzano le due isole Canarie di Tenerife e La Palma sono collocati innumerevoli telescopi di varie nazionalità non solo europee. Tra questi nella più piccola La Palma troviamo il TNG, Telescopio Nazionale Galileo, il maggior telescopio ottico interamente italiano gestito dall'INAF. Si trova qui perché questo luogo, oltre ad essere facilmente accessibile, presenta tutte le caratteristiche perché un telescopio possa godere della migliore visuale possibile. Poter vedere bene, per poter vedere bene ci vuole un'aria, un'atmosfera particolare, poco contaminata, lontano dalle luci e posti così ce ne sono pochi al mondo. Benvenido a Canarias. Nel corso degli oltre 15 anni da cui è operativo, il TNG ha permesso di compiere importanti scoperte in ogni ambito della ricerca astronomica. La caratteristica che lo contraddistingue maggiormente è lo specchio principale da tre metri e mezzo. È uno specchio di sei tonnellate di vetro sostenute da 68 attuatori, motorini che tirano e spingono per tenerlo sempre nella forma perfetta. Che cosa fa questo specchio? È uno specchio concavo che concentra la luce e porta tutta la luce della stella, della galassia, di quello che si osserva, nel fuoco, nel fuoco del telescopio. In questo caso noi abbiamo ben tre specchi. Quello principale riflette la luce nel secondario lassù in alto e un terzo specchio decide di mandare la luce a destra o a sinistra in una delle due sale che chiamiamo sale NASMIT. Dove c'è il secondo pezzo importante del telescopio? Si tratta degli strumenti. Abbiamo strumenti che prendono immagini, che poi usiamo per mettere dei filtri colorati davanti per vedere differenti componenti degli oggetti che guardiamo e si chiama fotometria. Oppure gli mettiamo un prisma, un retico di diffrazione e disperdiamo la luce nei suoi colori per analizzare la composizione e il movimento degli oggetti che stiamo osservando. Questo è Dolores, lo strumento che ci permette di ottenere immagini e anche un po' di spettria a bassa risoluzione nelle lunghezze d'onda visibili, ovvero tutte le immagini che produciamo a colori di supernove, di galassie, vengono fatte con questo strumento. Ha lavorato per gli ultimi dieci anni come principale strumento del telescopio e quello che ha visto più di tutti. Questa invece è l'altra sala dove ci sono gli strumenti che osservano la luce infrarossa, che ci permettono di vedere cose che con la luce normale visibile non si vedono. Per esempio, cose lontanissime. Con questo strumento d'oro, Nix, nel 2009 abbiamo misurato la più grande distanza in assoluto mai misurata da un telescopio astronomico al mondo. In quel momento per diversi mesi abbiamo detenuto il record di misura di distanza e quello che si è visto era una grande esplosione che probabilmente da quelle parti era molto pericolosa. Noi da lontano abbiamo potuto però battere ogni record con questo strumento infrarosso qui al telescopio Galileo. Dentro questo anonimo botte di acciaio, neanche tanto bella da vedere, c'è lo strumento, il più nuovo strumento, lo spettrografo infrarosso Giano. Di questo strumento ce n'è uno solo in funzione al mondo che è questo. Tenteremo di vedere, di misurare le atmosfere dei pianeti extrasolari proprio con gli spettri infrarossi raccolti dallo strumento Giano nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Questo è l'ultimo pezzo del telescopio. Con queste scatole nere lo strumento HARPS raccoglie la luce delle stelle e tramite una fibra ottica la manda giù nello scantinato dove c'è dietro tre porte chiuse assolutamente con combinazioni svizzere, lo strumento più preciso che abbiamo qui al telescopio. Con questo strumento HARPS riusciamo a misurare come si muovono le stelle fino alla precisione di un metro al secondo o anche meno. Praticamente riusciamo a vedere camminare una persona che viaggia un metro al secondo a centinaia di anni luce.